Praticamente non siamo neanche a metà dello spacchettamento, quindi non so neanche a quanti minuti sto e non so se il telefono reggerà mai. Ok, animazione molto buona, vediamo un poco, spero almeno in una super rara, probabilmente sia, beh, solo super rare ovviamente perché il resto abbiamo tutto. Sì ragazzi, super rara, Predone, Lamadisco, guardate che questa è un'ottima carta, allora ragazzi, Demone, ricordatevi, Demone, quindi è ottimo, è un Demone, 1.700, già solo con la carta terreno Yami diventa un 1.900. Una volta per turno puoi scegliere come bersaglio una carta trappola normale nel tuo cimitero, bandisci quel bersaglio e solo fai questa carta guadagna 500 attacco fino alla fine del turno del tuo avversario. Quindi ragazzi, diventerebbe praticamente un 2.400 con la carta terreno e un 2.200 senza carta terreno ed è buono perché resta fino alla fine del turno prossimo, quindi buono ragazzi. Carte trappola normali nel cimitero, qualcuna la troviamo sempre, quindi buonissima ragazzi, super rara, mi fa molto piacere, ma noi dobbiamo trovare faccia da uccello che è quella che ci serve. Mago del caos oscuro, vabbè, non c'è niente da dire, carta bellissima soprattutto pensando all'anime ed è fighissima, quindi andiamo avanti, andiamo avanti, vediamo un poco. Allora, 1, 2 e nuova carta. Ok, vediamo, squadra di ricognizione Goblin. Se questa carta attacca direttamente con successo puoi guardare una carta a caso dalla mano del tuo avversario. Ok, non è male. Se è una carta magia, mandala al cimitero e questa cosa è ottima. Se questa carta attacca viene messa in posizione di difesa alla fine della battle phase. La posizione di questa carta non può essere cambiata fino alla fine del tuo prossimo turno e se non per effetto di una carta. Ok, quindi ragazzi praticamente attacchiamo, se attacchiamo diretti va tutto per bene. Vediamo una carta in mano al nostro avversario, se è magia gliela scartiamo, quindi ottima cosa, però una volta che attacchiamo lui va in difesa fino alla fine del nostro prossimo turno. Quindi davvero per tanto tempo ed è zero attacco. Praticamente ragazzi serve giocarla solo quando siamo sicuri di andare diretti. Ok, spero in un'altra super rara, non lo so, vediamo un attimo. No, 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 un altro di questo che ne abbiamo avuti già abbastanza. Mamma mia, già non ce la faccio più. Allora, andiamo avanti. Falco, ok, sono tutte carte che abbiamo già visto per il momento. Oddio, forse c'è qualcosina, non lo so, vediamo un po'. Allora, sì ragazzi, super rara, colpo Big Bang. Altra ottima carta, in più è uscita anche Foil, è uscita anche Foil. Allora, il mostro equipaggiato guadagna 400 attacco. Ok, uno dice non è tantissimo, ma guardate bene il secondo effetto. Se il mostro equipaggiato attacca un mostro in posizione di difesa, inflici danno da combattimento perforante al tuo avversario. Quindi la differenza tra la difesa e l'attacco lo subiscono in Life Points. E c'è un terzo effetto ragazzi. Quando questa carta lascia il terreno, bandisci il mostro equipaggiato. Voi mi starete dicendo, sì, ok, ma questo è un effetto negativo. No ragazzi, non è un effetto negativo. Vi spiego il perché. Allora, immaginate di tenere Turbine e colpo Big Bang. Il nostro avversario ha un drago bianco occhi blu. Noi equipaggiamo il drago bianco occhi blu del nostro avversario. Attiviamo Tornado sul colpo Big Bang e rimuoviamo praticamente il drago bianco occhi blu. Quindi, sì, due carte, però due carte per fare una combo che portano alla distruzione di un mostro. Anzi, lo bandiscono. Un po' come quella carta magia che non ricordo adesso il nome che diceva scarta una carta dalla tua mano e distruggi un mostro avversario. Bene, praticamente noi possiamo fare quasi la stessa cosa grazie a colpo Big Bang. Quindi è una carta con tanti effetti e da saper giocare veramente bene. Comunque sono contento. Un'altra super rara. Andiamo avanti. Speriamo che ci sta qualcosa. Speriamo, no, un altro mago che però è sempre figo quindi non gli possiamo dire niente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ancora questa che neanche ci interessa. Ok, ok, stiamo a... Non so ragazzi, io perdo il conto di quante bustine apro. Assorbi anime. Se una o più carte vengono bandite guadagni 500 life points. Oddio, forse in qualche deck che bandisce, sì, potrebbe essere utile. Ottimo, ottimo, ottimo. Ci dovrebbe essere una super rara ancora. Ok, è trappola quindi non è quella che volevo io. E invece, sì, sempre super rara. Allora, scarta una carta. Allora, diciamo prima di nome. Energia ascendente. Scarta una carta. Puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto sul terreno. Quel bersaglio guadagna 1500 attacco fino all'end pace, ragazzi. Sì, è un'ottima carta. È un'ottima carta e va bene così. Praticamente, ragazzi, io ho comprato 20 bustine e addirittura ho preso 3 super rare adesso e un'ultra e una super prima. Quindi, davvero, ottimo spacchettamento. Peccato che, porca vacca, non ho beccato proprio la carta che volevo. Cioè, faccia da uccello. Quindi, ragazzi, io sono convinto al 100% di fare così e di comprare altre 10 buste. Prima di tutto perché le cose ci stanno andando per il meglio. E, seconda cosa, ragazzi, perché questo pack qui veramente è ottimo per fare dei buoni deck. Quindi noi andiamo e ce lo compriamo tutto quanto e, senza ombra di dubbio, una volta che lo finirò, lo comprerò anche una seconda volta. Sia per il secondo faccia da uccello, ma anche per tutte le altre carte, come teschio evocato, come mago rosso, lì. Insomma, perché, ragazzi, sono delle buone carte. Oh, finalmente, forse un'altra super rara. Uh, ragazzi, prismatica. Mamma mia, allora, andiamola a vedere immediatamente. Teschio evocato prismatico, ragazzi, non ci credo, non ci credo. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Teschio evocato prismatico. Super rara. Mamma mia, cioè, dobbiamo leggerlo solo per lo sfizio. Allora, demone. Un demone che confonde i nemici con i suoi poteri oscuri. Tra tutti i mostri tipo demone, questo vanta una forza considerevole. Allora, questa carta è sempre considerata come una carta arcidemone. E quindi, ragazzi, questo qui può essere, appunto, evocato. Come vi dicevo prima, 2005, demone con la carta terreno diventa un 2007. Praticamente, evocarlo specialmente è una bella rottura per il nostro avversario. Ottima carta. Sono veramente, veramente contento, ragazzi. Prismatica, cioè, oddio. Non solo stiamo avendo un sacco di fortuna nel pescarle queste super rare, ma addirittura la prismatica in questo pack opening io non me l'aspettavo. Ma è arrivata, ragazzi. È arrivata, è arrivata. E stanno arrivando tante belle carte. Non posso leggervele tutte perché già non ce la faccio più. Però, quello che posso, lo faccio. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Speriamo, speriamo, no. Qui non credo che ci sia una super rara. O comunque, no. Un altro assorbi anime, però foil, però foil. Allora, allora, allora. Questo qua che cosa dice? Allora, in versione dimensionale. Mi sa che già l'ho letto qualche altra volta. Perché mi ispira sempre l'immagine. Allora, attiva solo quando uno o più mostri che controlli vengono rimossi dal gioco e dall'effetto di un avversario. Evocat, tramite vocazione speciale, uno di quei mostri. Ok, ok, ok. Ci devono rimuovere i mostri. Oddio, ci sono poche carte che fanno queste cose. Allora, oh, paperasonica. Allora, era qui paperasonica. Bene, 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 bene. Paperasonica era quella che mi serviva. Praticamente me ne serve anche un'altra, a dire la verità. Perché visto che la seconda faccia d'uccello non la otterrò mai adesso, mi servono allora tre paperasoniche. Mamma mia, ragazzi, il teschio evocato è troppo bello. Ah, ecco qui, ragazzi. È proprio qui la paperasonica. Quindi, quindi, ragazzi, è questa. Sono queste le bustine che io devo assolutamente comprare. Ma dai, ci ritorniamo tra un po', andiamo a cambiare. Allora, Valkyria's Range. Allora, qui non ricordo, però ricordo che le volevo comprare. Ci sarà stato un motivo perché volevo comprare queste bustine. Fatemi andare a vedere e vediamolo comunque insieme. Allora, ecco perché, ragazzi. Allora, come ultrarare a tante carte buone. Ad esempio, questo che può essere evocato specialmente. Questo che non viene distrutto. Guardate un po', una fata da milleotto, anche se è un mostro normale. Scambio di anime, ragazzi, che è una carta da paura. Ira Divina, che la conoscete tutti e parla già da sola. Eh, vabbè. Xing Sehu, che è un'altra carta fortissima. E vediamo un po', ad esempio, anche Drago Corno Bianco. È un altro Drago, un solo sacrificio molto molto buono. Quindi, ragazzi, praticamente questo qui è un pack che parla da solo. Senza considerare che ci sta la ragazza infelice che mi serve la terza. Ci sta anche Esploratore Ombra di Hero, che serve per fare il deck che fa scartare le carte al nostro avversario. E tante tante altre carte. Quindi, ragazzi, 500 gemme per queste buste qui ci sono e le dobbiamo assolutamente usare. Quindi, andiamo a vedere un po'. Allora. Vediamo un poco, eh. Non ci interessi, non ci interessi. Teva, che cosa dice? Allora, Guerriero Effetto. Quando questa carta viene evocata con un'evocazione tramite tributo con successo, ah, cazzo, 5 stelle. Il tuo avversario non può dichiarare un attacco durante il tuo prossimo turno. Ok, ragazzi, ho messo un attimo a caricare il telefono perché sennò non ce la facevo. Allora, animazione abbastanza promettente. Vediamo un poco. Allora. Non ci interessi. Uh, nuova carta. Disarmo. Distruggi tutte le carte equipaggiamento sul terreno. Ok, potrebbe risultare una buona carta. No, Mimic Oscuro livello 3. Non ci interessa, quindi no. Allora, allora, allora. Abbiamo. Oh, allora. Coniglio Bianco Inaba. È quella carta, se non sbaglio, che può attaccare direttamente Bessia Spirit. Fa parte della categoria Spirit. Questa carta non può essere evocata tra un'evocazione speciale. Va bene. Questa carta ritorna in mano al proprietario durante l'end pace del turno in cui è stata evocata tra un'evocazione normale o scoperta. Questo mostro attacca direttamente le points del tuo avversario. Sempre nel deck barn, ragazzi, sono 700 punti di danno fissi a ogni turno con un'evocazione ed è una buona carta, una buona carta. Incubo, Tebano, ne diamo un po'. Demone, ok, 1.500 quindi è buono. Mentre non hai carte nella zona, no, scusatemi, non hai carte nella tua mano, né nella zona carte magie e trappolo, questa carta guadagna 1.500 attacco. Porca vacca. Praticamente può diventare un 3.000 quindi se lo teniamo in mano fino a che non abbiamo più carte risulta un'ottima carta. Velo dell'oscurità, carta continua. Durante la tua drone pace se peschi uno più carte o scurità puoi rivelare un qualsiasi numero di essi, mandati al cimitero, poi puoi pescare un'altra carta. Non lo so, c'è qualcosa di strano ma potrà servire a qualcosa, dobbiamo pensarci un po' su. Oddio, un altro spirit, grande, naso, lungo. Allora, questa carta non può essere evocata tra un'evocazione speciale, come al solito. Questa carta ritorna in mano a proprietario durante l'evocazione del turno in cui è stata evocata nell'evocazione normale o scoperta. Va bene. Se questa carta è infesilando dal combattimento del tuo avversario, salta la bad place del prossimo turno del tuo avversario. Ok, ok, buona, però il problema è che ci vuole un tributo e far tornare in mano un mostro dopo aver fatto un tributo è un grandissimo spendio di energia. Quindi ci deve essere un modo per evocarla più velocemente, se no non serve praticamente a nulla. Resurrezione non ci interessa e il sarto neanche ci interessa. Ok, vediamo un po'. Dai, 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 dacci qualcosa di buono, dacci qualcosa di buono. Naso lungo non ci interessa, non ci interessa. Ok, super rara. Bucotrappola adesivo, non male, ma a me non piace. Io preferisco muro a specchio. Quando il tuo avversario evoca uno o più mostri, dimezzo attacco originale di quei mostri. Cioè, questa qui lo fa per sempre, però io penso che sia meglio che lui attacca, dimezziamo e gli facciamo perdere le points e anche il mostro. È molto più efficace di Bucotrappola adesivo. Però potrebbe comunque risultare una buona carta. Ok. Questa non ci interessa. No, quella l'ho saltata, ve la volevo far vedere. Punto di potere, Shino Beard. Allora, un mostro spirito che controlli guadagna 500 attacco e difesa. Ah no, i mostri spirito, scusatemi. Quindi è carta continua, i mostri spirito. Se uno o più mostri vento scoperti che controlli ritornano nella tua mano, eccetera durante la damage step, puoi aggiungere un mostro spirito, cioè spirito, o carta rituale dal tuo deck alla tua mano. Puoi utilizzare questo effetto di punto di potere Shino Beard una volta per turno. Quindi ragazzi, praticamente, carta continua, gli spirit tornano sempre in mano e quindi noi serciamo a manetta. Oddio ragazzi, guardate che questi mostri potrebbero risultare abbastanza antipatici e potrebbero... Oh santo Dio ragazzi, comunque stavo dicendo potrebbero essere molto buoni. Cazzo ragazzi, ultra rara, senza animazione, senza niente, ira divina. Quando viene attivato l'effetto di un mostro, scarto una carta, annulla l'attivazione e se lo fai, distruggi quel mostro. Ira divina, ottima carta, davvero ragazzi, sono contento di aver beccato ira divina. Va bene così, allora. Ok, rischiosissima, ma potrebbe essere una carta vincente in un deck barn. Quindi, teniamola a mente, teniamola a mente. Questa non ci interessa.